La rigidità muscolare è uno dei sintomi principali della malattia di Parkinson e oltre a rendere difficile il movimento può provocare dolore a chi ne ha affetto. Le cause sono state a lungo sconosciute ma ora una ricerca condotta dal neuromed e dalla sapienza ha rivelato il coinvolgimento di una rete neurale. Lo studio condotto su 20 pazienti si è avvalso di un sistema robotico in grado di misurare la rigidità muscolare al variare delle velocità dei movimenti. I ricercatori hanno dunque correlato le componenti biomeccaniche dovute a ossa, articolazioni, muscoli e tendini con l'attività del sistema nervoso. Abbiamo realizzato, ha detto il professore Antonio Suppa del neuromed, un nuovo paradigma sperimentale che ci ha consentito di comprendere le cause della rigidità finora ignote e di chiarire alcune risposte neurofisiologiche come i riflessi. La ricerca apre la strada a nuove terapie. L'uso combinato dei robot e della neurofisiologia, conclude il dottor Francesco Asci, primo autore dello studio, ci ha permesso di individuare le varie componenti responsabili della rigidità muscolare, portandoci a scoprire un network nervoso coinvolto nella patologia.